No, 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 voglio sentire proprio. Sì, ma infatti lei sta sbagliando un po' a parlare. Io sto sbagliando a parlare? Ma su solo orari che respiro qua, vai. Ma non esiste una cosa del genere, perché voglio dire che noi siamo... No, 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 se lei si impunti questa maniera... Nessuno le dice il voglio dire di venire qua, ci sono anche i negozi... Io devo sentire, devo trovare la stessa situazione, devo trovare altre panno. Buonasera, buonasera. Sì, Stefano, eh? Siamo calmi, per piacere. Buonasera, sono il direttore del supermercato. E mi scusi, quante volte vi dico che bisogna avere cortesia, bisogna essere calmi, bisogna avere calma nella vita. Mi raccomando Pasquina, devi essere sempre tranquilla. Mi scusi. E quante volte vi ho detto, vi ho pregato, di essere, ecco, avere un comportamento particolare, mi scusi, con i clienti. E soprattutto che il cliente ha sempre ragione, è vero? Cosa stava dicendo il signore? Che siamo ladri. Ah, uè, le talte. Chi è là? Boh, vi sono. Molto, no, barca. Ma tu toglieci, no, stò, perché è lei? Ma vi non, carassi, Pasquina! Vi non, 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 vi non. Poi, qua, con te, vi non, vi non, vi non, vi non. Grazie.